ehi ciao noi vi avevo visti oggi sono qui per raccontarvi le novità che vi mostreremo nei prossimi giorni primo fra tutte artisti emergenti volume 2 che la nostra raccolta delle canzoni degli artisti emergenti che sono nella radio poi abbiamo la 5k steggo challenge che è una challenge dove in sei mesi cercheremo di far arrivare a 5000 follower un artista scelto tra quelli che abbiamo nella radio nei prossimi giorni annunceremo l'artista che parteciperà questa challenge e infine domani alle 14 uscirà il primo episodio di steggo talk il podcast di steggo radio quindi restate sintonizzati su questo canale qui io sono emmanuel uno dei fondatori di steggo radio e questo è watchmojo o no